TG Meridiano, apriamo con la politica, ci colleghiamo con Chiara Valentini a Firenze perché poco fa c'è stata la conferenza stampa del senatore Matteo Renzi e di Stefania Saccardi. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Patrizio. Una conferenza stampa molto partecipata anche da semplici cittadini perché lo possiamo dire ufficialmente, Stefania Saccardi è candidata a sindaco di Firenze per Italia Viva. Ci sono state diverse bordate da parte del senatore Renzi anche e soprattutto al Partito Democratico per aver rinunciato alle primarie. Chi è forte in città non ha paura delle primarie. Il PD non dice no a Italia Viva ma a se stesso, ha detto Renzi. Noi siamo pronti il 3 marzo a fare le primarie civiche di centro-sinistra. Chi vince governa, chi perde dà una mano a chi vince. altrimenti noi il 9 giugno ci presentiamo con Stefania Saccardi per Firenze. È già attivo un sito proprio con questa dicitura. Ha detto Renzi, gli altri sono specialisti dei veti, noi stiamo specialisti dei voti. Il riferimento chiaramente è al veto posto da sinistra italiana sulla entrata di Italia Viva in una possibile alleanza con il Partito Democratico. Un veto che però proprio ai microfoni di Toscana TV poi è stato in qualche modo smentito anche dal segretario regionale di sinistra italiana. Ma diciamo che su questo aspetto dei veti e controveti ci sono ancora diverse cose da chiarire. Dicevamo Renzi e le primarie del PD. Ha ricordato Matteo Renzi che la stessa Sara Funaro, candidata per il Partito Democratico e l'alleanza che la sostiene, aveva iniziato a fare politica proprio nel 2009 nella lista Renzi tra l'altro e aveva utilizzato naturalmente le primarie. Anche Stefania Saccardi si è detta ovviamente emozionata e contenta di questa candidatura ma ha sottolineato che non è una candidatura chiusa, non è una candidatura di partito, è aperta, senza veti, ha ripetuto più volte anche lei. Perché lo scopo sia annunciato da Matteo Renzi che anche da Stefania Saccardi è fare proprio delle primarie con lei, Funaro e Cecilia del Re, non solo, magari ha detto Renzi anche con chi altro ci starà. Ci sarà il 29 gennaio un evento per parlare del programma più nel dettaglio, però qualcosa Stefania Saccardi lo ha già detto su questa Firenze che deve cambiare, soprattutto ad esempio sul tema stadio, vogliamo che i soldi pubblici non siano utilizzati per lo stadio ma per le case popolari, ma anche fatto una sorta di già proposta concreta, ad esempio una squadra che si occupi delle cascine. Si apre naturalmente il tema di cui si è parlato molto anche in questi giorni, del futuro di Stefania Saccardi in regione. Questo è un tema che sia Matteo Renzi che Stefania Saccardi rimandano assolutamente al PD. Lei ha proprio detto, potevo stare tranquilla in un incarico che mi piace, ho deciso però di metterci la faccia, però ho ricordato che nella sua lunga carriera amministrativa le istituzioni e la politica sono due cose assolutamente diverse. Io, ha detto, sto facendo l'assessore anche per chi non mi ha votato, quindi un'eventuale decisione del Partito Democratico di escluderla dalla giunta regionale solamente per questioni politiche sarebbe molto grave, ha sottolineato anche Renzi, che però ha detto, mi fido di Eugenio Gianni, non credo farà una scelta del genere, altrimenti perderebbe, ha detto, anche la regione. Questo è un po' il riassunto di quello che è stato detto, ma io direi di sentire direttamente dalle parole di Renzi e anche di Stefania Saccardi questo annuncio. Votare Stefania Saccardi a sindaco di Firenze sarà una cosa bellissima. Quindi è la candidata ufficiale di Italia Viva? Quindi è la candidata ufficiale, non credo solo di Italia Viva, però noi da qui lanciamo un appello, se davvero il centro-sinistra fiorentino non vuole tradire se stesso, facciano le primarie contro Stefania, faccia le primarie Cecilia del Re, che aveva chiesto le primarie due mesi fa, ma io rivolgo un appello, visto che lei ha iniziato a far politica con la lista Renzi, anche a Sara Funaro. Nel 2009 furono le primarie a permettere a gente come Sara di avvicinarsi alla politica. Quindi io sogno le primarie a primavera tra Saccardi, Del Re, Funaro e chi poi vuole venire venga. Giocheremo una partita per Firenze, per nessuno in particolare, ma per la città. La mia candidatura ha il senso di poter dare la possibilità a chi vuole cambiare squadra, di cambiare squadra, ma senza cambiare campo, come mi ha detto un amico imprenditore, di costruire un'alternativa per Firenze senza necessariamente andare a destra. Una partita solo ed esclusivamente per Firenze, con Stefania per Firenze. Voi porreste veti nell'un'eventuale alleanza anche con altre forze? Non direi. Anzi, abbiamo lanciato l'idea delle primarie per chiunque le voglia fare. Perché credo che sia un momento di partecipazione, credo che sia un momento di democrazia in cui ci si confronta con serenità con tutti. E in Regione cosa succede? E in Regione cosa succede? Eh, lo domandate alla persona sbagliata. Non faccio... Io è Presidente, io mi sono candidata a sostegno di un Presidente, con un programma, lo sostengo. Ho un ottimo rapporto con il Presidente e la Regione. Considero e ritengo che stia facendo e lavorando bene nell'interesse della Toscana. Sono al suo fianco fino a quando lui vorrà. Voltiamo pagina, parliamo dell'alluvione, di quello che ha prodotto. Nel Pistoiese ci sono ancora dei vivai sommersi dal fango. Abbiamo raccolto la testimonianza di un vivaista. Secondo Coldiretti ci sono già 200 domande di richieste per i ristori. Vediamo il servizio. A un mese dall'alluvione è sempre piena emergenza per un vivaio di Montale, in provincia di Pistoia. La situazione è disperata. Senza l'intervento degli enti pubblici qui rimarrà una landa desolata. Adatta ai lupi, afferma il titolare Roberto Gheri, la cui azienda, Gheri Vivai Piante, è stata devastata da acqua, fango e con il terreno e uffici invasi da tutto ciò che è fuoriuscito dagli stabilimenti della contigua zona industriale di stazione. Come vede qui ci sono raucari di 20 fino a 40 anni che venivano praticamente usate per madre piante. sono due piante di hoi che ci sono piante maschile e piante femminili e che purtroppo ad una ad una se ne stanno andando tutte e non ci sarà più materiale per la riproduzione. Questo è un guai. Quanto l'avevamo selezionata questa varietà per la bellezza del tronco e del portamento. e quindi moriranno poi insieme alle altre piante perché purtroppo già hanno cominciato a perdere tutte le foglie e le radici sono ormai asfittiche perché ci sono 70-80 cm di melma sopra non possono più respirare quindi tutte le piante che si vede sarà tutto da sradicare e bruciare e tutto il terreno da bonificare perché adesso non è più un terreno ma una discarica ce l'ha aperta. A riportare il caso di Gheri uno tra i tanti è Coldiretti riferendo che sono 200 le segnalazioni di danni da parte delle aziende agricole. Quella di Gheri, Vivai Piante spiega Fabrizio Tesi presidente di Coldiretti Pistoia è una delle situazioni più critiche ma l'alluvione ha colpito in modo pesantissimo molte attività agricole soprattutto Vivai che in molti casi hanno fatto da cassa d'espansione limitando i danni nei centri abitati ma compromettendo le piante. Cambiamo argomento parliamo di turismo in particolare in questo ponte dell'Immacolata andiamo a Firenze intanto dove è stata inaugurata la ruota panoramica. Inaugurata ieri Florence High la ruota panoramica in piazza Vittorio Veneto a Firenze che ha traslocato causa lavori dalla fortezza da basso alta 55 metri Florence High offre una visuale straordinaria sulla città e rimarrà aperta fino al 10 giugno. Sì, è una bellissima novità direi doppia appunto il luogo diverso dall'anno scorso perché alla fortezza abbiamo i lavori del sottoattraversamento qui alle cascine perché vogliamo dare un segnale che le cascine sono dei fiorentini e ce le vogliamo riprendere e ce le riprendiamo anche con iniziative come queste perché dove c'è cultura dove ci sono le famiglie ci sono i giovani c'è un vero presidio sociale che rafforza il contrasto ai problemi della sicurezza. Le cascine sono il parco dei fiorentini riprendiamocene questo è il messaggio e poi l'altra novità appunto è che questa ruota rimarrà per molto tempo fino a giugno come abbiamo deciso insieme alla soprintendente Ranaldi che voglio ringraziare anche il sottosegretario Sgarbi che addirittura era per tenerla sempre ma insomma intanto facciamo progressi visto il successo dei due anni precedenti sicuramente avere per tutto questo tempo le cascine sarà un modo anche per attrarre turisti fuori dal quadrilatero romano del centro storico e quindi spalmare flussi turistici anche fuori dalle aree tradizionali della città Un buon auspicio per un parco delle cascine più vivibile frequentato anche da bambini e famiglie ha detto il governatore toscano Eugenio Gianni anche lui presente all'inaugurazione insieme agli assessori comunali Sara Funaro Giovanni Bettarini Benedetta Albanese e Federico Gianassi Sicuramente è un modo per contrastare quello che può essere un elemento di richiesta di maggiore sicurezza nell'area delle cascine ma poi è anche il modo per vivere Natale le festività con un punto d'aggregazione che sia da un lato vicino al centro storico ma dall'altro non sia elemento per ingolfare il centro storico E ora appunto vediamo come stanno andando le presenze a Firenze non è un ponte sold out questo dell'immacolata nemmeno nelle città d'arte per l'8 dicembre l'andamento del settore turistico registra un dato di assoluta stabilità della domanda fa sapere Confesercenti Toscana la tendenza rimane comunque positiva nonostante l'inflazione in particolare nelle città d'arte dove il tasso di occupazione media delle strutture ricettive è dell'80% tassi altrettanto elevati risultano anche per le località rurali e termali dove la saturazione media sale rispettivamente all'81 e all'80% in crescita sono soprattutto gli italiani che si muovono di più nelle festività infrasettimanali nel complesso il segnale di tenuta importante che danno i numeri del weekend lungo dell'immacolata fanno ben sperare anche per il periodo delle feste natalizie sottolinea Nico Gronchi presidente di Confesercenti Toscana anche se in questo momento di grande incertezza il grosso delle prenotazioni avverrà last minute i segnali per il Natale 2023 sono positivi il 25 e 26 dicembre le persone tendono a stare in famiglia aggiunge Francesco Becchi i federalberghi Firenze il boom è atteso dopo il 27 fino più o meno alla Befana è un copione che si ripete le presenze attese confermano comunque il buon andamento del 2023 bene bene anche alla Betone in tutto il comprensorio sciistico dove appunto ci sono tante presenze ma anche code alle biglietterie degli schipass vediamo piste prese d'assalto sia ieri che oggi nel comprensorio sciistico di Abetone Val di Luce anche oggi già di prima mattina spiega Andrea Formento presidente nazionale di Federfuni e direttore della società Val di Luce SPA si sono formate lunghe code sia alle biglietterie sia agli impianti di risalita la giornata è splendida la neve è buona e compatta la temperatura è gradevole ma anche sufficientemente fredda per poter proseguire con l'innevamento programmato il ponte dell'Immacolata sta dunque confermando e anche superando le aspettative degli operatori che erano comunque ottimistiche le prenotazioni proseguono anche nei prossimi giorni aggiunge Formento riceviamo tantissime telefonate anche per i prossimi giorni il fatto poi di vedere anche dalla città le nostre montagne così bene imbiancate è la nostra migliore cartolina ci sono tutte le condizioni per poter sperare in una buona stagione invernale che ci faccia in qualche modo dimenticare quella dello scorso anno quando la neve arrivò soltanto a metà gennaio gli impianti sono praticamente tutti aperti si afferma Giampiero Danti direttore generale della società Betone Funivie le nostre maestranze oltre 60 persone si sono date un grande affare in questi giorni che hanno preceduto l'apertura degli impianti e l'avvio di questo ponte festivo il risultato è molto buono le piste sono perfette gli appassionati di sci e degli altri sport invernali sono arrivati numerosi e ora spostiamoci a Grosseto festa per l'accensione dell'albero di Natale vediamo l'8 dicembre l'area natalizia irrompe con tutto il suo carico di magia e anche a Grosseto il comune con tanto di sindaco e giunta al completo ha dato il via all'accensione di vari alberi il primo dei quali in piazza Duomo caratterizzato da una struttura composta da grosse palle in metallo percorse da luminarie quindi l'accensione di un altro in piazza del sale per chiudere in piazza Rosselli con un albero ricavato al centro della fontana che la domina davanti al palazzo della prefettura ufficialmente parte il Natale un Natale piovoso quindi fortunato quindi auguro a tutti veramente di realizzare i propri sogni di trovare un po' di spazio di tempo da dedicare alla propria famiglia in un mondo sempre più frenetico dove i valori appunto e gli assetti familiari sempre di più risentono di questa freneticità quindi mi raccomando date un abbraccio alla vostra nonna al vostro papà al vostro nonno state in famiglia state insieme rilassatevi gioite e state bene buon Natale a tutti come sempre c'è qualcuno che critica l'albero dell'amministrazione comunale questa volta con le palle finalmente un albero con le palle no comunque tanto chi critica c'è sempre da sindaco ho imparato a farmi scivolare le critiche addosso il bello è il Natale bisognerebbe che le persone imparassero a guardare il bicchiere mezzo pieno e soprattutto a riconoscersi quei valori tradizionali fondamentali fondanti della nostra società che il Natale rappresenta a prescindere dagli alberi dai regali da tutto il resto questo è l'ospicio che io faccio ritrovate voi stessi ritrovate i veri valori dello stare insieme della famiglia e dell'amore rimaniamo a Grosseto per un'altra attrazione il villaggio di Babbo Natale con tante iniziative vediamo se vuoi visitare la vera casa di Babbo Natale l'appuntamento obbligato è a Grosseto con la terza edizione di Alcassio Re Natale organizzato dalla istituzione Lemura del comune la novità di quest'anno è la presenza nei sotterranei della fortezza del Grinch il gatto con il cappello che si aggirerà nel villaggio e farà di tutto per sabotare il Natale i bambini presenti nella magica piazza del Pozzo dovranno escogitare stratagemmi utili per impedirglielo ma a regalare momenti indimenticabili ci saranno molti altri personaggi tra cui Aurora la regina delle nevi che accoglierà grandi e piccini nel suo bosco ghiacciato per raccontare storie fiabe fantastiche Sgambetto l'elfo maggiordomo di Babbo Natale che vive nella sala della slitta farà firmare ai bambini il grande libro dei nomi conservato nella casa di Babbo Natale che li aspetterà nel suo scintillante salotto per una bella foto ricordo ma c'è di più l'elfo Nottolone intratterrà i bambini nella camera di Babbo Natale per raccontare storie della buonanotte mentre Madame Svaporine accoglierà i visitatori per introdurli nel magico mondo del Natale l'elfa Pennellina sarà invece nella sala degli specchi magici per truccare i bambini mentre gli elfi letterina e stellina permetteranno di scrivere le letterine a Babbo Natale direttamente nel suo ufficio postale nell'officina degli elfi invece si effettueranno laboratori natalizi con gli elfi campanellina e zuccherina in alcune giornate speciali sono previsti piccoli spettacoli di magia mentre in una galleria della fortezza sarà possibile visitare un'esposizione di modelli in cartapesta raffiguranti antichi borghi medievali toscani è tutto per ora grazie per essere stati con noi una buona giornata a tutti